Via Libera della Giunta al piano per la sistemazione di Piazza Sabato e dei giardini di Via Carducci e Via Marconi. L'esecutivo ha dato mandato al responsabile del settore lavori pubblici e manutenzione di avviare l'iter per iniziare una serie di lavori finalizzati alla riqualificazione di quello che la delibera stessa definisce il più importante spazio pubblico del capoluogo. 4. Gli interventi previsti dal piano. Trasformazione della fontana in una fioriera, sostituzione in toto dell'impianto di pubblica illuminazione della cupola di Piazza Sabato attraverso sistemi a basso consumo energetico, manutenzione dei cordoli, dei muretti e delle panche e sistemazione dell'area sud dei giardini destinandola a zona gioco per i bimbi.